Miss Ritchie, ce l'incontriamo. Ti dispiacerebbe lavarlo il sacco? Ornare quanto vuole, Miss Ritchie, ma credo che nessuno potrà sentirla. Beh, non sta orrando, perché? Miss Ritchie, se non le spiace. Cioè, tipo... Ma questo è un urlo da donnicciuola. Sì, questo è meglio. C'è un sito web in particolare dove trovate questi arnesi da scienziati pazzi e super criminali. Veramente, la maggior parte li compriamo in un outlet e... Non risponderle. Romania. No, fermo! Sta usando le sue abilità da reporter ficcarazzo sul tuo cervello elementare per capire i nostri segreti. Questi giochetti non funzionano con me. Parla più lento. Tentatore c'è!